Dopo una stagione estiva affrontata tra incertezze e dubbi sui protocolli da seguire per evitare i possibili contagi all'interno dell'ambito scolastico, si punta a garantire e a raggiungere una sicurezza tale che possa garantire agli studenti il rientro a scuola in serenità. Da qui la decisione di molti sindaci del comprensorio cilentano e valdianese con la firma delle prime ordinanze proprio per il rinvio alla riapertura delle scuole che era stato previsto dalla regione Campania il 24 settembre ma che slitterà ancora di quattro giorni. Quest'anno la campanella suonerà il 28 settembre per diversi comuni dell'area del parco. Nello specifico i comuni che con un'ordinanza sindacale hanno preso questa decisione sono Mignano, Salento, Sessa Cilento, Stela Cilento, Perito, Lustra, Vibonati, Caselle Impittari, Sanza, Cuccaro Vetere, Capaccio Pestum, Ascea, Cannalonga, Agropoli, Giungano, Castellabate, Albanello, Montano sulla Marcellana, Vibonati, Caselle Impittari, Montano Antilia, Vallo della Lucania, mentre nel comune di Altavilla Silentina le scuole ripartiranno il prossimo 5 ottobre.